Carlo Cissernino, vittoria del primo event show pista Salentina, una vittoria conquistata ma non scontata perché comunque si tratta di un esperimento. Sì, di scontato diciamo nel mondo dei rally non c'è niente, bisogna sempre impegnarsi al massimo per cercare di dare il massimo soprattutto. Poi quest'oggi avevo una naviga d'eccezione, un campione di suo e dovevo comunque dimostrare anche di essere forte, non soltanto nei video che vediamo online ma di persona. Spero che sia stato così. Le insidie di questo percorso? Beh, le insidie di questo percorso è atipico, non è come il rally, diciamo, è un circuito misto a sterrato, diciamo che ogni giro era completamente diverso da quello precedente, comunque le insidie nascevano di continuo. Alle note del driver Ritzel, insomma, un'esperienza anche questa da mettere in calendario, nel proprio diario? Assolutamente, anzi oggi lo mettiamo in bacheca pure, visto che ci è andata bene, abbiamo vinto, la mettiamo proprio in bacheca, è stata un'esperienza bellissima, sia con Francesco che mi sento di dire che è il numero uno in assoluto perché mi ha fatto sia divertire che mi ha dato queste prime nozioni perché mi ha catapultato nel mondo del rally però con il giusto, nel senso che mi ha dato già il metodo ai primi giorni, quindi io mi sono impegnato. Poi non lo so, deve dire lui se sono stato d'aiuto oppure un peso, non lo so, un peso sicuramente in macchina. Ma correresti ancora con lui? Sempre, sempre perché si è dimostrato già dall'inizio un campione nell'apprendimento, diciamo, di quelle che sono le nozioni realistiche, diciamo che è quasi pronto, vai, manca veramente, veramente poco. Allora, questa di gara tipica sperimentale, secondo voi potrebbe essere un po' una gara del futuro? Per me andrebbe studiata perché è molto divertente sia a livello di equipaggio sia a livello di locazione di vetture come organizzazione perché comunque è concentrato tutto nell'epicentro del cartodromo. Organizzazione fantastica, sono riuscito a fare tutto nel meglio dei modi, spero che si ripeta più spesso perché altro io guarderei avanti su questa tipologia.